Eccoci, buongiorno. Vediamo alcune proprietà magnetiche dei materiali. All'interno di un oggetto il materiale è composto da protoni, neutroni ed elettroni che ruotano intorno al nucleo. In realtà questa rotazione non è altro che una carica che percorre una traiettoria come se fosse un filo percorso da corrente. Quindi possiamo pensare che questa possa essere una micro spira e non è un'idea del tutto errata. Quindi ogni elettrone ruota intorno al suo nucleo creando una micro spira che ha il suo momento magnetico, come sappiamo, noi sappiamo che il momento magnetico mu con m è dato dalla corrente per l'area della spira, quest'area qua, d'accordo? Allora questa micro spira avrà posizioni casuali all'interno di un materiale con momenti magnetici del tutto casuali, orientati a caso. Se invece mettiamo un campo esterno tipo un pezzo di ferro vicino ad una calamita, tutte le micro spire, come vediamo in questa schematizzazione, si orienteranno avendo il momento magnetico, perché? Perché c'è una rotazione dovuta al momento delle forze magnetiche che porterà in equilibrio la spira in modo da avere il momento magnetico mu della spira orientato così come è orientato il campo magnetico esterno. E allora avremo molte spire orientate e se sommiamo, se facciamo una specie di somma o vediamo un effetto globale di tutta questa situazione, potremmo sommando gli effetti pensare che questo oggetto è come un solenoide composto da infinite grandi spire il cui campo magnetico interno, che sarà la somma di tutti i momenti magnetici, è rappresentato da una linea di campo interno di questo tipo. La corrente che effettivamente potrebbe circolare su questa macro spira per produrre questo campo magnetico prende il nome di corrente di magnetizzazione, è una specie di corrente virtuale, cioè non è vera, ma in realtà è dovuta alla somma delle micro correnti che producono dei micro momenti magnetici che sommati da un grande campo magnetico è come se derivasse da una corrente in un solenoide. Quindi avremo in ogni punto un campo totale che sarà dato dal campo esterno, ovviamente questo non possiamo trascurarlo, più un campo interno B con M dovuto alla somma di tutti questi micro campi magnetici. Se i momenti magnetici delle micro spira sono tutti allenati, allora potremmo dire che il materiale è magnetizzato e questo spiega lo spostamento di un ago magnetico verso il polo di corrispondenza. I materiali si dividono in tre categorie, i materiali ferromagnetici sono quelli che vengono facilmente magnetizzati, il ferro per esempio, il nickel, i materiali diamagnetici, quelli che sono debolmente respinti da un campo magnetico e i materiali paramagnetici che sono attratti debolmente da un campo magnetico. Quindi tre tipi di materiali. I materiali ferromagnetici ovviamente hanno dei momenti magnetici delle spire micro molto grandi e quindi una facilità di allineamento piuttosto importante. Avremo un campo interno molto maggiore del campo esterno che l'ha generato, quindi un'amplificazione del campo magnetico. I materiali paramagnetici sono più o meno con le stesse caratteristiche, ma i momenti magnetici sono davvero molto molto piccoli rispetto a quelli dei materiali ferromagnetici. Quindi c'è una difficoltà di allineamento e il campo interno non è più grande di quello esterno, anzi è decisamente minore di quello esterno. Ci sono poi materiali diamagnetici, il cui momento magnetico delle micro spire sono piuttosto casuali e tra loro si annullano per avere un campo interno prossimo allo zero che è antiparallelo rispetto al campo esterno B con zero che l'ha generato. In generale il campo magnetico totale in un materiale è dato da quello esterno più il campo generato all'interno di micromomomenti magnetici. Potremmo quindi dire che il campo totale è dato da una quantità mu con R per B zero. Questa mu con R è chiamata permeabilità magnetica relativa del materiale preso in esame. Ovviamente questo mu con R che è una costante del materiale riferita al materiale che mettiamo davanti al campo esterno sarà dipendente dal campo esterno quando il materiale è ferromagnetico, sarà leggermente maggiore di 1 quando il materiale è paramagnetico è leggermente minore di 1 quando il campo è diamagnetico. Perché è minore di 1? Perché va ad attenuare, essendo antiparallelo, va ad attenuare il campo esterno. Vediamo alcuni materiali come il rame è certamente diamagnetico, l'aria è un materiale paramagnetico, il loro paramagnetico, l'alluminio viene leggermente respinto. Il bismuto, che non abbiamo abitudine, ma guardate l'acqua, è un materiale paramagnetico. Ok? Buona giornata.